Ciao a tutti! Oggi prepareremo la confettura di gelsi bianchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono gelsi bianchi, zucchero semolato, succo di limone e mela. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo lavato i gelsi e abbiamo tolto il picciolo. Mettere nel boccale lo zucchero semolato, la mela tagliata a pezzetti, i gelsi, il succo di limone. Chiudere con il coperchio senza il misurino. Posizionare il varoma senza il coperchio ed azionare il bimbi per 60 minuti, 95 gradi, velocità 2. Posizionare il misurino e frullare per 30 secondi a velocità 10. Rimuovere il misurino, riposizionare il varoma senza il coperchio e proseguire la cottura per 15 minuti, temperatura varoma, velocità 2. La confettura è pronta. Trasferire immediatamente in vasetti di vetro sterilizzati, chiudere con il coperchio e capovolgerli e lasciare raffreddare completamente prima di rigirarli. Confettura di gelsi bianchi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!